Hector Actix, oggi vi presento questo nostro nuovo arrivo, una bellissima Seat Leon Station Wagon 1.6 cilindrata diesel 115 cavalli. Sul laterale troviamo subito questi bellissimi cerchi in lega da 17 codici. Spostandoci troviamo barre al tetto cromate, venti posteriori e rinotto costurati. Arrivando alla parte posteriore scopriamo sensori di parcheggio per le nostre manovre e naturalmente un ampiosissimo bagagliaio che può essere aumentato di dimensioni. Arrivando agli interni scopriamo queste bellissime sedute in tessuto con attacchi iso-pix sui laterali, bocchette per l'ariazione e finestrini elettrici. Arrivando alla parte anteriore troviamo il cambio che è automatico, schermo touch per la gestione dell'infotainment subito sotto il climatizzatore, tra i due sedili troviamo un comodissimo bracciolo porta oggetti, freno di stazionamento elettronico e volante multifunzione con i vari comandi per la gestione delle telefonate, del Bluetooth e della radio. Dietro troviamo il sensore luci che è automatico e sensore pioggia. Lo schermo è tutto quanto digitale. Si tratta di un'auto immatricolata a gennaio del 2019 e ha percorso solamente 88.000 km. Venite a scoprirla sul nostro sito ratx.com.